Dottor De Cadallo, un uomo di legge ma anche di storia, è ancora un paese libero, un paese dove serve una manifestazione così per riaffermare la Costituzione? Il fatto è singolare che ci si debba ritrovare per difendere la carta fondamentale della Repubblica Italiana, però il fatto che ci si ritrovi in tanti significa che è un paese che ha una grande ansia di libertà se non altro, quindi un fatto positivo. Possiamo manifestare e siamo qui per farlo. Il senso civico è ancora un valore attuale oppure la realtà è più forte, è più resistente? Il senso civico è un valore attuale ed è un valore dialettico, entra in dialettica e deve farlo con forza con una realtà che sembra a volte ostile al senso civico, ma insomma la manifestazione è viva, vivace e questo fa sperare bene.